Buongiorno, sono Davide Aliprandi da Advanced System Technology e sono basato in Agratebrianza, Italia. Oggi vi mostrerò questo prototipo di in-vehicle infotainment multimodale del prototipo di human-machine-interaction. Come processore principale usiamo il nostro STI-H416, anche chiamato come Orly, e questo processore supporta architettura modulare basata sul Genevia SDK. Come potete vedere qui, abbiamo un sistema basato full IP. Abbiamo qui un camera IP che non è da STI in questo caso, ma siamo pronti per supportare la 991 camera from Imaging Division, che farà l'h.264 real-time encoding e l'optica fluo. Abbiamo usato questo MAMS Microphone Arrays, made up of 4 omni-direccional MAMS Microphones, che utilizziamo per creare un'unica input stream usando il algoritmo di beamforming, e altri due microfoni, posizionati ai suoni, che utilizziamo per l'eco-cancelare. Vi faccio vedere come funziona questo sistema. Faccio usare questo tabletto per gestire la demo, e potremmo anche pensare di usare questo iPad come un screen di seconda per il passaggio dentro del auto. Quindi, prima, il motore si sta qui, e deve essere riconosciuto dalla camera. Allora, cominciamo. Ok, ho stato riconosciuto. Come vedete qui, c'è il mio nome, e tutti i miei configurazioni. Quindi, per esempio, il mio peso, che può essere usato per muovere la posizione della sede. Poi c'è la temperatura internazionale, la temperatura internazionale, 19 degrees, e la radio station preferita. Alla questa informazione è replicata qui, sul controllo, e quindi, so that the users, the drivers, can see all these informations. Then, all the algorithms that we have used to recognize the user can be used in another scenario there, just to understand when the users, the drivers, is distracted. So, let me turn on this feature. And now, when I turn my face because I get distracted, a pop-up will show. Like this. Now, another interesting feature of the system is that we can control the system through the voice. So, there is one activation word, and then I can start submitting submitting comments to the system. Let me try. Wake up! System started. Radio. Now, here there is my preferred radio station. There is this cover flow, which can, which I can move through the tablet, or even through the voice. Like this. Left. Right. Select. And you can hear the music. So, last but not least, let me show you how to interact with social networks. Let me enable Facebook messages. Okay. Now, I will simulate to receive a message from a friend. You received a message from the video. The system reads the message. How are you? And I can reply. Would you like to reply? Okay. I'm fine. Thanks. And you? to do. And the message arrives. So, I hope you liked the presentation. This is a very exciting project. And if you want to receive more information, just contact ST. Thank you for your attention. For more information, Thank you very much. Go to your audience, if you want to have a very new video. I will give you a little bit of time, it's easy to see you in the chat,